Giovanni de Mata, fondatore dell'Ordine della Santissima Trinità, nacque a Faucon, in Provenza, nel 1154. Docente di teologia alla Università di Parigi, si fece prete tardi, sui 40 anni. Poi lasciò la cattedra perché un segno misterioso gli aveva rivelato la sua vera missione, quella di dedicarsi al riscatto degli schiavi cristiani in Africa. Ritiratosi per un periodo di riflessione a Cerfrois, ad una settentina di chilometri da Parigi, parlò della sua idea a quattro eremiti, tra cui San Felice di Valois, che la condivisero immediatamente. E così, in tre anni, nacque l'Ordine dei Trinitari. Sono caratterizzati da un abito bianco, con la croce rossa e azzurra sul petto, capa e cappuccio neri, come potete vedere anche nell'illustrazione. L'elemosina raccolta da appositi collettori veniva destinata per un terzo al mantenimento dei monaci, per un terzo all'assistenza dei malati e pellegrini e per il restante terzo al riscatto degli schiavi. Ottenuta l'approvazione da Papa Innocenza III, tra l'altro era stato suo condiscepolo alla Università di Parigi, nel 1199 Giovanni partì per la prima spedizione in Marocco. I religiosi visitarono mercati, prigioni, luoghi di lavoro e liberarono, con regolare scrittura, circa 200 schiavi, il cui arrivo a Marsiglia commosse l'intera città mentre venivano accompagnati in cattedrale cantando il salmo in exito Israele d'Egipto, nell'uscita di Israele dall'Egitto. Nel 1209 l'Ordine aveva già una trentina di case che verso il 1250, qui è una cosa incredibile, sarebbero salite addirittura a 600, soprattutto in Francia e Spagna. Un fatto curioso tra coloro che riacquisteranno la libertà, secoli dopo, ci sarà anche Miguel de Cervantes, l'autore del Don Quixote, che era stato venduto da un pirata sul mercato di Algeri e fu liberato dal trinitario spagnolo Fra Juan Gil. A Giovanni de Mata, Papa Innocenzo fece dono a Roma della chiesa abbaziale di San Tommaso in Formis, dove il santo morì il 17 dicembre 1213, consunto dalla sua frenetica attività per trovare denaro, moltiplicare le spedizioni, costruire ospizi per gli ex schiavi malati e senza famiglia. È curioso che con analoghi scopi, nel 1218, San Pietro Nolasco fonderà a Barcellona l'Ordine dei Mercedari. Grazie. 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 Grazie.